Una carrellata di corti e documentari per un pubblico attento e critico. Ritornano gli appuntamenti con Cinema dal basso nella consueta e accogliente location del Teatro Civico 14. Tre incontri trimestrali a novembre, gennaio e marzo che si concluderanno con il Festival di Cinema Indipendente che giunto alla sua terza edizione ha visto l'alternarsi di registi e opere di spicco nel panorama indipendente italiano. Al via oggi questa nuova stagione con la proiezione dei corti Alma, opera prima di Rodrigo Blas e 3x3, a seguire il pluripremiato short film Vagina, scritto e diretto dal giovane regista Alessandro Porzio. Poi la proiezione di Rimbo, opera ermetica che si concentra sul tema del conflitto tra il mondo del bambino e quello degli adulti. In serata riflettori puntati sul giovane regista napoletano Antonio Lungo che presenterà il suo Midnight Bingo, vincitore del premio Miglior Documentario Autoprodotto al Napoli Film Festival 2011. Infine l'ospite tanto atteso, Luca Ragazzi, coautore con Gustavo Offer di Italy, Love it or leave it, un film on the road a bordo di una Fiat 500, icona del boom economico italiano, che indaga e racconta un paese carico di problematiche e contraddizioni, ma tuttavia ancora da mare. Un viaggio chilometrico intervallato da splendide animazioni alla ricerca di un buon motivo per partire o per restare.